Negli studi di TV City, l'assessore all'urbanistica del comune di Torre del Greco, quali sono gli interventi che il suo assessorato sta portando avanti? Si tratta di dare continuità quando già abbiamo più volte detto anche attraverso i canali televisivi di TV City, non ultimo quello dell'altra settimana dove appunto nel presentare il PUC, il piano urbanistico comunale, diciamo attraverso il redattore del PUC, l'architetto Riviero, quelle che erano le cose più salienti che il PUC stesso porterà quando avrà completato il Twitter burocratico. Siamo a pochi giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni che sicuramente rappresentano un momento importante perché significa ricevere il contributo dei cittadini su quelle che possono essere le indicazioni che in qualche modo vengono condivise oppure magari vengono integrate perché non corrispondenti a quelle che sono le aspettative di sviluppo del territorio. Ogni cittadino, ogni associazione può dare indicazioni e chiedere che ci siano delle modifiche a quelle che è il PUC che è stato predisposto, che verranno esaminate dal progettista subito dopo la scadenza dei termini che dovrebbe essere appunto l'inizio settimana il 15 e dopodiché le stesse osservazioni verranno fatte proprie dal progettista o meno e portate come italia all'aggiunta comunale e quindi con tutto quello che ne consegue con l'approvazione finale che dovrebbe avvenire il 31 dicembre prossimo con un parere definitivo non solo del Consiglio comunale ma anche degli altri organi competenti. Quindi un percorso condiviso? Certamente sì, è un po' diverso da quello, l'ho detto in diverse occasioni, è un po' diverso da quando avveniva negli anni, nei decenni passati laddove i piani urbanistici venivano fatti a tavolino, venivano in qualche modo imposti a chi abita e chi vive il territorio senza la partecipazione attiva dei cittadini. Oggi per fortuna ci sono degli strumenti diversi dal passato, c'è maggiore partecipazione e c'è quindi anche una maggiore condivisione di quello che succederà. Questo significa poter attuare al meglio quelle che sono le previsioni e speriamo che possa portare in maniera più diretta e nei tempi più contenuti delle modifiche che siano bene accolte dalla cittadinanza. Cosa rappresenta per il territorio il piano urbanistico comunale questo strumento? Rappresenta sicuramente un momento di riqualificazione di quelli che sono gli spazi urbani. Il territorio è molto esteso e ha anche caratteristiche diverse dalla parte nord, quella a confine con il Colano alla parte sud, quella a confine con Torre Nunziata. Quindi ci sono delle differenze sostanziali nei diversi spazi delle città che in qualche modo attraverso il piano si cerca di migliorare affinché non ci siano squilibri tra una parte e un'altra della città tra la parte collinare pedemontana e quella a bordo del mare e quindi cercando di fare in modo che il territorio possa avere una maggiore qualità e vivibilità in tutti i suoi ambiti.